Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Edito oggi ha accolto molto volentieri la nuova destinazione di Arezzo e il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che si è presentato di fatto stamani mattina in un incontro con la stampa. Ha ripercorso un po' a grandi linee quelle che sono state le sue precedenti esperienze professionali e si è detto molto contento, soddisfatto di venire nella nostra città. Fa discutere e andiamo in Valdarno il mondo politico, il corso di nuoto per donne musulmane che si svolge a figline incisa. Sulla vicenda è intervenuta anche la politica nazionale perché il fatto travalica ormai i confini locali ed è diventato di carattere nazionale tenendo conto anche e soprattutto di quelle che sono state le reazioni anche di alcuni autorevoli esponenti politici nazionali. Ovviamente ci sono anche prese di posizione della politica locale, però è contro questa iniziativa. Da Chiusi della Verna inaugurazione della nuova biblioteca comunale è uno spazio rinnovato, sarà inaugurata il prossimo sabato nel pomeriggio, uno spazio rinnovato che si propone di essere un luogo nel quale fare cultura per l'intero comune di Chiusi della Verna e non soltanto. Ovviamente ci saranno delle tematiche prevalenti e in modo particolare, secondo quanto afferma la stessa amministrazione comunale, la nuova biblioteca si occuperà di cultura e soprattutto di ambiente, tenendo conto anche del luogo nel quale è inserita. Queste erano le nostre breaking news.